Musica Buongiorno, bentrovati, appuntamento il primo della settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa lunedì 14 gennaio 2019. Apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, siamo al centro, l'edizione di Pescara, il titolo di apertura riguarda i vandali in centro nella zona della Movida, vedete vandali in centro, notte da incubo, Pescara la rabbia dei residenti, minacciavano di morte chi protestava. In alto si parla di elezioni regionali perché si avvicina a grandi passi l'appuntamento elettorale del prossimo febbraio e i giudici dicono le liste non si toccano salvi i candidati Udc dopo le polemiche delle ultime ore per l'inserimento proprio nelle liste dell'Udc di candidati non graditi. Al candidato presidente Marco Marsiglio e ai partiti della coalizione e poi dall'altra parte l'appello di Legnini ai delusi dei selfie e della destra romana. Vediamo a centro pagina il grande cuore di Paola malata di Sla, un bus donato ai disabili ieri in piazza Salotto in questa cerimonia con la misericordia di Pescara. Restiamo a Pescara, parliamo di commercio, i saldi meglio con il bel tempo dicono gli esercenti e poi ancora a Pescara Marco Orfano dopo Rigopiano dice ho perso tutto. Tutela ambientale, tour a bussi di Sara Marcozzi il candidato presidente del Movimento 5 Stelle. Parliamo anche di sport, dell'amichevole giocata ieri pomeriggio allo stadio adriatico dai biancazzurri Pescara battuto dal Fano per 2 a 1, pillone furioso. Così non va, non è stata una buona prova per i biancazzurri ma ovviamente nelle gare amichevoli la concentrazione non è mai al massimo. Siamo all'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro, l'autista ubriaco rischia 18 anni, Chieti la morte del cuoco Luciani scatta l'omicidio stradale aggravato. Vediamo poi a centro pagina, in questo caso si parla di sport, di basket con il Chieti Basket al quinto successo nelle ultime sei gare, al palatricale è stato battuto anche il corato. A proposito di sport, vedete di spalla l'articolo che riguarda il volley maschile di Serie A2, decima vittoria e terzo posto per la Sieco in Pavida Ortona. Marks Shaw è immarcabile e vittoria degli ortonesi con Taviano per 3 a 0, terzo posto in classifica sicuramente inatteso ma molto gradito in casa ortonese. Torniamo alle cronache, siamo a San Salvo, assalto al bar, ladri in fuga con il cambia soldi, guardia grele, casa svaliggiata ad un'anziana in pieno giorno. E poi Chieti, la sentenza, troppi incidenti per la presenza di cinghiali. Andiamo a vedere la prossima prima pagina del centro che è quella di Teramo. I furbetti del sisma patteggiano, Teramo in due chiedono una pena di sei mesi per truffa e falso. Lo sport in primo piano, il basket in particolare nella prima margina di Teramo del centro con il Roseto che batte Mantoval supplementare. Questa volta i tempi supplementari hanno regalato un sorriso alla formazione bianca azzurra che nel turno precedente sempre ai supplementari. Era stata invece battuta dalla fortitudo Bologna. Vediamo altri titoli, il caso Camorra, Di Matteo non è ancora un socio del Teramo, lo ha precisato ieri la società bianco-rossa in un comunicato. E poi appalti sospetti, Teramo Ambiente, l'acquisto dei veicoli è sotto inchiesta. Parliamo poi ancora delle elezioni regionali, i candidati di Martinsicuro sono quattro. Vediamo l'ultima pagina del centro per quanto riguarda l'Aquila, Avezzano e Sulmona. Valanghe, l'hotel vuole riaprire l'Aquila e il proprietario, un problema di viabilità e non della struttura. E poi sisma, esercitazione fiaccolata sul Monte Saviano ad Avezzano con 2500 persone, prove tecniche di terremoto. in una zona che purtroppo ci riporta al tragico terremoto dei primi anni del 1900. Siamo all'Aquila, vittime del sisma, il sindaco Pierluigi Biondi con i familiari. E poi Sulmona, l'attack va in tilt, pazienti in trasferta. Avezzano, donatori di sangue, l'ASL risparmia sulle colazioni. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Marsiglio per ora fuori una lista, popolari per l'Italia senza firme, possibile ricorso. Oggi si discute sul simbolo di Abruzzo futuro, candidature Udc. Parla Marianna Scoccia, mi attaccano perché sono la moglie di Gerosolimo. Gerosolimo, ex assessore uscente dell'attuale giunta, assessore dunque in appoggio proprio alla giunta di centro-sinistra. Vediamo anche il titolo di spalla. Lolli e vertici delle poste usate, i nostri mezzi elettrici, lo dice il presidente vicario della regione Giovanni Lolli. E poi, raid dei vandali in pieno centro, danni e minacce. Pescara e i residenti accusano la Movida, ormai è fuori controllo, abbiamo paura. E poi l'Aquila, Biondi, lo Stato rispetti le vittime del sisma, dice il primo cittadino del capoluogo di regione. Vediamo in basso un altro titolo che ci porta a Giuliano Vaspopola. Il talento di Sorgentone in alto, i richiami come ogni lunedì dello sport ma non solo. Serie B, Pescara, Beffa, sorpresa con il Fano, idea Tuminello per il mercato. Serie D, Real Giulianova torna a far punti, Vastese nell'altra partita giocata ieri, è stata battuta per 2-1 in casa della San Maurese. E poi il caso Teramo, così come è stato da tanti definito, Camorra, società, rapporto, da procura e comitato etico. Il patron Campighelli, non c'entriamo nulla con le associazioni mafiose. Giovedì a Roma sarà interrogato il nuovo amministratore della società Bianco-Rossa. Ieri, vedevamo anche dal centro, c'è stato questo comunicato proprio diramato nella serata dalla società Teramana in cui si spiega che non ha ancora nessun incarico ufficiale in società, incarico di amministratore delegato proprio di Matteo. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, andiamo a vedere le prime pagine invece dei giornali nazionali. L'apertura è dedicata al Corriere della Sera, tutti i titoli principali riguardano il ritorno di Battisti in Italia. Vedete Battisti già in volo oggi in Italia, il terrorista arrestato in Bolivia è subito espulso. Il ministro Bonafede sconterà l'ergastolo, Salvini addio pacchia, detto il ministro degli interni. E poi lo scoppio a Parigi, seconda operazione alla gamba per la ragazza italiana ferita, la battaglia di Angela che sogna di danzare. Vediamo il quotidiano La Repubblica. Cesare Battisti catturato in Bolivia oggi in Italia, sconterà l'ergastolo dopo 40 anni in fuga, un aggancio alla rete wifi, tradisce l'ex terrorista condannato per quattro omicidi. Andiamo a vedere anche il fatto quotidiano, ora la legge sull'acqua pubblica, TAV, il Movimento 5 Stelle contro il referendum. E poi vedete in alto Battisti oggi in Italia, subito in carcere, vita di un assassino, il super latitante in Bolivia. Deve scontare l'ergastolo, il messaggero nazionale Battisti all'ergastolo in Italia, il terrorista rosso arrestato in Bolivia da agenti italiani e sudamericani. Lo sbarco oggi a Roma. Vediamo un altro titolo che riguarda gli statali in pensione, novità contributi, TAV, piano B della Lega, per salvarla. Siamo a Libero, Battisti preso in Bolivia oggi in Italia, la primola rossa fatta, nera, parla, titola così il quotidiano libero. La verità, Battisti torna in manette, grazie, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, protetto in passato da Francia, Brasile e ora da una rete di italiani, il terrorista è stato stanato in Bolivia dai nostri agenti. Per via del cognome Torreggiani ho fatto pure io 25 anni di latitanza, parla il figlio del gioielliere assassinato. Siamo a Il Giornale, ha finito di ridere, arrestato Cesare Battisti preso in Bolivia, il terrorista rosso. Poi il Sole 24, le nuove pagelle contributive contro i furbetti del reddito, la Guardia di Finanze e l'Evasione. Debuttano gli ISAC, gli indicatori in grado di valutare l'affidabilità di ciascun datore di lavoro nei versamenti. E poi vedete, più in basso, sette vie per la pensione in anticipo. Ne parla Il Sole 24 ore nelle pagine interne del giornale Oggi Nedicola. Il mattino di Napoli, Battisti all'ergastolo in Italia, finita in Bolivia la fuga del terrorista, tradito da alcol e Facebook, scrive Il Mattino. E poi due squili, Napoli riparte, Milic non perde un colpo, Napoli che supera il turno di Coppa battendo il Sassuolo. E poi una notizia che riguarda l'incubo Formi che evacuata a chirurgia al San Giovanni, Napoli, emergenza senza fine per gli insetti, sospetti del manager e la pista. Sabotaggio. Siamo alla stampa di Torino, la lunga fuga di Battisti finisce in eccella, arrestato in Bolivia. E poi in basso parliamo di un altro argomento con questo titolo del quotidiano torinese. Gentiloni Salvini voti con noi sulla TAV, intervista all'ex premier, all'europea una lista progressista, può sfidare la Lega ad armi pari. Ha detto Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio. Il Tempo di Roma ha preso Battisti, sinistra sotto shock. Il PD Zingaretti straparla e chiede par condicio con gli assalitori dei cronisti dell'Espresso. Da anni favorita la latitanza del terrorista, scrive Il Tempo. C'è anche chi vuole evitare il carcere all'assassino. Il secolo.it vince l'Italia, l'arrivo sul suolo italiano è previsto nel primo pomeriggio. Si parla ovviamente di Cesare Battisti, sceso dall'aereo, verrà condotto nel carcere di Rebibbia, dove inizierà a scontare la sua pena. Il secolo XIX, quotidiano genovese, Battisti, la fuga è finita, ora lo attende l'ergastolo. E poi, l'altro titolo con corredo di foto riguarda la Liguria che adesso scommette sul mare d'inverno, sulle spiagge deserte scaldate da un tiepido sole, potrebbe nascondersi la chiave per dare forza al turismo fuori stagione in Liguria. Lasciamo dunque l'edicola nazionale col secolo XIX, l'ultimo quotidiano che abbiamo visto nel corso di questa edicola. Torniamo ai quotidiani abruzzesi, al centro, pagina 3, l'Abruzzo verso le elezioni regionali, Legnini appello ai delusi di Selfie e Destra Romana. Il candidato presidente parla ad una platea gremita all'incontro per Di Matteo, ribadisce l'importanza del laboratorio del civismo con otto liste e 232 candidati. Gli appuntamenti di oggi a Pescara verranno presentate, le liste PD proprio per la provincia di Pescara e ci sarà anche la presentazione a Chieti. In basso Marcozzi contro la Lega, il candidato presidente del 5 Stelle, dice sì, dice la Marcozzi, alle tripelle, riferendosi proprio al partito di Salvini. Bussi, la candidata del Movimento 5 Stelle, parla di difesa dell'ambiente e incalza anche Marsilio. A fine settimana, è l'annuncio proprio della Marcozzi, tornerà in Abruzzo di maio e sarà la terza visita, se non andiamo errati, nel giro di qualche settimana. Cronache dalle province, partiamo da Pescara, via Piave una notte in preda ai vandali, i residenti insorgono, suonavano i citofoni, rompevano bottiglie, hanno insultato e minacciato di morte. Chi protestava, problemi che ormai perdurano da tempo nella zona della Movida, nel centro di Pescara. I gestori dei locali, parla Pierluigi Pasetti, il sabato c'è più Baccano ma Piazza Muzzi è sicura. Vendite di fine stagione, primo bilancio dei saldi a Pescara in questo caso, freddo e maltempo, bloccano i saldi, aspettiamo il sole, dicono gli esercenti. E intanto in centro, ma in via Trieste e via Terno, riprendono i lavori dopo la lunga pausa natalizia. Rigopiano due anni dopo parla uno degli orfani, dopo i miei genitori ho perso anche il lavoro, Marco Foresta aveva avviato una vineria in via Piave ma ha dovuto chiudere, mamma e papà mi aiutavano in tutto. Per lo Stato non ho diritto a niente, Marco Foresta che avevamo avvicinato i nostri microfoni la scorsa settimana, quando gli aderenti al comitato di Rigopiano avevano incontrato in prefettura a Pescara il ministro degli interni Salvini. Addio ad Antonioli, tassista per 44 anni, aveva 78 anni e morto ieri in ospedale. Domani alle 10 i funerali con il picchetto d'onore dei colleghi di Pescara. Dunque se ne va uno dei tassisti storici del capoluogo adriatico. Parliamo anche di solidarietà a pagina 12. Paola e il suo sogno in città, una spiaggia per i marati di Sla, la docente di inglese in piazza Salotto con la misericordia, la consegna del pulmino per il trasporto dei disabili. Vedete la foto. E poi Pescara è splendida, le parole di Pasolini sul muretto lungomare Matteotti. Terminata l'opera dell'artista Nuzzi e in basso, tornando alla politica, Marsiglio inaugura il comitato. Lo ha fatto ieri pomeriggio, il comitato di Fiorilli e Santa Venere, candidati consiglieri con azione e politica. Ieri sera poi Marsiglio era anche all'inaugurazione del comitato elettorale del candidato della Lega Luca De Renzis a Pescara. Il comitato che si trova in via Nicola Fabrizi. Una fotonotizia che è comunque importante e che riguarda il dragaggio che inizierà a breve nel fiume Pescara, perché ieri, lo aveva detto anche il presidente Giovanni Lolli nei giorni scorsi, parlando proprio delle operazioni di dragaggio, ieri è iniziato il controllo dei fondali da parte delle forze dell'ordine della Capitaneria di Porto, a caccia di ordigni bellici proprio nel porto, di eventuali residuati bellici dell'ultimo conflitto mondiale, proprio in vista dell'avvio dei lavori di cui tanto avevamo parlato anche nei giorni scorsi nei nostri Tg. Proseguiamo, rapina club nautico, siamo a Montesilvano, si ascoltano i testimoni carabinieri che ricostruiscono l'assalto al 33enne sabato scorso, derubato dell'auto. Da Montesilvano a Francavilla al mare, Chiazza Nera sulla sabbia, ma sono solo detriti. E poi, organizzata da Flag Costa a Pescara, cerimonia al porto per le vittime del mare. Andiamo a vedere la prossima pagina che ci porta a Chieti, l'inchiesta sullo schianto in galleria. L'autista ubriaco rischia fino a 18 anni. La Procura della Repubblica contesta l'omicidio stradale aggravato e chiede il processo per il marocchino che travolse ed uccise il cuoco Luciani. E poi, una notizia collegata direttamente a questa tragedia sulla strada. Nel 2018, ritirate 200 patenti per alcol e droga dalla polizia stradale di Chieti. Finisce sotto processo per un furto di api. Agronomo 33enne accusato di ricettazione per 4 arnie sparite tra Casalincontrada e Bucchianico. Siamo a San Salvo. La cronaca, salto al bar, fuga con il cambiamonete, il colpo nella notte al Caffè Noir di Via Montegrappa. In azione tre banditi, il titolare Tumini, locale, devastato. E a guardia grere i ladri svaliggiano la casa di un'anziana in pieno giorno, rubati 5 mila euro di gioielli. Proprio in pieno giorno, dunque con anche il rischio di essere scoperti. Innumerevoli gli incidenti con i cinghiali. Chieti, sentenza risarcisce i danni ad un automobilista e mette sotto accusa la regione che non interviene. Siamo alla pagina dell'Aquila per quanto concerne il centro. Gran Sasso, strada chiusa, il proprietario hotel sicuro, riapriamo. L'imprenditore Bellassai è un problema di viabilità e non della struttura. Non devono crearsi allarmi. Aspettiamo i clienti. E a proposito di neve, pienone, lotta, la sosta selvaggia, campo imperatore, navette in azione. Campo Felice si prepara ad accogliere gli amanti dello snowboard. In basso l'Iris, bufera per l'aperitivo al bar comunale, vice sindaco nel Mirino. Assurdo utilizzare un bene da demolire o acquisire al patrimonio, dicono quelli che hanno contestato l'Iris proprio per questo aperitivo al bar comunale. Andiamo a vedere la prossima pagina che ci porta ad Avezzano. Prove di terremoto per 2.500 persone. 104 anni fa il sisma, era il 1905, un sisma davvero terribile che rase al suolo la città di Avezzano. E c'è stata questa esercitazione in città con incendio simulato dall'ospedale, inserata una fiaccolata sul Monte Saviano, chiusura con la fanfara. Taglia le colazioni dei donatori di sanque. Avezzano, l'Avis insorge contro l'Asl, tolto il distributore automatico per non sanzionare gli scrocconi. Leggiamo da questo titolo. Da Avezzano ci spostiamo a Teramo. Parliamo anche in questo caso di terremoto, di post terremoto. Però, truffa e falso, furbetti del sisma chiedono il patteggiamento. In due sono accusati di aver tentato di percepire l'autonoma sistemazione con documenti finti. E poi, tragedia dell'elicottero. Ricorderete questa tragedia a Campo Felice. Un monumento per ricordare, un monumento che si trova nel parco fluviale, per ricordare Davide De Carolis, il tecnico del soccorso alpino, morto il 24 gennaio del 2017, insieme ad altre 5 persone che si trovavano, ricorderete, su un elicottero del 118, precipitato a Campo Felice, in provincia dell'Aquila, dopo aver soccorso uno sciatore che si era fratturato. In basso, torniamo alla vicenda di cui tanto si sta parlando in questi ultimi giorni. Di Matteo, Nicola Di Matteo, che è entrato nel Teramo Calcio, non è ancora socio della società Bianco-Rossa. Lo precisa proprio il sodalizio a Prutino. Ieri sera è stato diramato un comunicato proprio da parte della società Bianco-Rossa. Al momento non può essere squalificato per le dichiarazioni sulla Camorra. C'è stata questa precisazione ieri sera della società Teramana attraverso un comunicato. Andiamo avanti, verso le regionali. Siamo in provincia di Teramo a Martinsicuro. Il caso Martinsicuro viene così definito. In quattro cercano un posto all'emiciclo. La cittadina non ha mai avuto un consigliere all'Aquila in 55 anni di storia. Ci provano l'ex di Alleanza Nazionale Lattanzi, gli esponenti dell'attuale maggioranza Emma Zarroli, e Tom Molini e la debuttante Marta Viola. E l'ex parlamentare Augusto Di Stanislao intanto torna in politica e si schiera con Giovanni Legnini. Cambiamo argomento, a Teramo Ambiente l'inchiesta punta sull'acquisto dei mezzi appalti nel Mirino. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere, prima di parlare di sport lo faremo ampiamente nella seconda parte come ogni lunedì, andiamo a vedere le pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero. Partiamo dalla cronaca di Pescara, danni e minacce ai residenti, i vandali in Via Piave, così come sul centro, anche sul messaggero, ritroviamo la notizia di atti vandalici commessi nelle ultime ore nella zona della Movida di Pescara. E poi verso le elezioni di Matteo e Sospiri, pienone ai comitati inaugurati ieri, a Montesilvano ci provano in otto dal 95 la città assente dall'emiciclo, e poi in basso, cambiando decisamente argomento, un po' di Macbeth domani, Rubini, Sergio Rubini, noto attore teatrale, sarà al massimo di Pescara. L'Aquila a Marsiglio si presenta in treno, quattro pilastri per cambiare, caso DC, vertice d'urgenza con gli alleati, poi le bordate ad Alfonso, PD e 5 Stelle. Grandi rischi, il sindaco basta a canimento dello Stato sugli aquilani, ha detto il primo cittadino dell'Aquila, Biondi. E poi la spaccatura, Bella Chiome di Nino Cicloni su Gerosolimo, torniamo, questo è un articolo di corredo, proprio a questo articolo principale di apertura di pagina, che riguarda la visita di Marsiglio all'Aquila. Le candidature dell'ultimo istante presentate dall'Udc hanno fatto infuriare i vertici proprio della coalizione di centrodestra. Tornando alla cronaca, cronaca giudiziaria, in questo caso macellaio ferito con il coltello, otto mesi dati dal giudice al suo aggressore, inflitti dall'autorità giudiziaria al suo aggressore. Mobilità, passaggi a livello da chiudere, modifiche al piano. E poi a San Gregorio, siamo sempre in provincia dell'Aquila, nonna Arcangela festeggia, 102 anni, auguri anche da parte nostra. Siamo ad Avezzano per parlare dell'esercitazione che è stata un successo sotto la neve. La città ha risposto con un certo interesse. Il sindaco De Angelis ha diretto dal COC tutte le complesse operazioni in piazza di risorgimento. La maggiore concentrazione in tanti in fila per avere l'attestato di avvenuta partecipazione. Questa esercitazione per ovviamente farsi trovare pronti, non dovesse mai accadere, ma è stata un'esercitazione importante anti-terremoto in una zona, purtroppo, ricordavamo prima, che nel 1905 è stata colpita da un gravissimo terremoto. 1915, pardon. 104 anni fa, vedete il titolo in basso, ci fu questo tragico sisma che colpì soprattutto la Marsica e tutto è filato liscio anche all'ospedale, questa esercitazione che ha riguardato ovviamente anche l'ospedale di Avezzano. Andiamo in basso, sul Mona le liste scombussolano l'amministrazione Casini e poi ancora sul Mona precarico Gesa, stato di agitazione revocato. Tornando da Avezzano, in municipio sono un po' tutti candidati. Una notizia di sport, in Serie B Avezzano rinvio, Paganica beffato per quanto riguarda le Aquilane di rugby. Noi siamo la pagina di Chieti, del messaggero torna alla provincia, l'ex ospedale, balzer degli uffici giudiziari. La sezione civile è tornata nel palazzo di giustizia, ristrutturato da poco, sfuma l'ipotesi del tunnel di collegamento per creare un polo unico. A Lanciano, sindaco contestato, né smart né green, opposizione all'attacco di Mario Pupillo. Ortonese Doc, venerdì si terrà il premio per proprio decretare il vincitore di questa edizione e la vincitrice in questo caso è l'archeologa Maria Luisa Orlandi. Andiamo in basso, San Salvo, Cronaca, Ride nella notte, rubato l'incasso del Caffè Noir, poi Viadotto Sente, Fondi a Rischio, ancora distanti, Vasto e Il Molise. Proseguiamo, siamo alla pagina di Teramo, sempre dalle colonne del messaggero. Terremoto i costruttori, ora basta con i ritardi, lancia i futuri vertici della regione senza iniziative, dice l'Associazione Nazionale dei Costruttori. Sarà un massacro, la maggioranza risolva i problemi, la minoranza faccia seria. Opposizione Giulianova, Sorgentone in finale a Italia's Ghost Talent, dunque questo Giuliese Doc si sta facendo onore in questo importante appuntamento. Roseto, sul comune Piomba il caso Di Marco, e poi in basso ancora Giulianova la carica dei candidati giuliesi, tante donne di Mastromauro, parliamo ovviamente dei candidati che sono ovviamente in tutto Abruzzo per le regionali del prossimo 10 febbraio, e poi Val Vibrata, Pepe e De Annuntis guidano le truppe regionali. Abbiamo visto che anche solo a Martinsicuro sono quattro i candidati per le prossime elezioni. Siamo arrivati anche in questo caso allo sport, allora possiamo fermarci per qualche istante, andare in pubblicità, poi torneremo in studio come sempre per la seconda parte di mattino 6, parleremo ampiamente di sport, andremo a vedere anche i servizi delle gare di Serie D giocate ieri, alcune erano state disputate sabato, due ieri per quanto riguarda le formazioni abruzzesi, ma parleremo anche del Pescara che ieri in amichevole è stato sconfitto per 2-1 allo stadio Adriatico dal Fano guidato dal pescarese Massimo Epifani. Seconda parte di mattino 6, apriamo con lo sport, con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali, Gazzetta dello Sport, l'Inter riempie San Siro di gol, vedete il titolo a tutta pagina, 6 reti al Benevento nello stadio vuoto con Icardi e Lautaro, autori entrambi di una doppietta, nei quarti la Lazio in casa, Spalletti, Skriniar e fuori mercato. Dunque abbiamo parlato con questo titolo degli ottavi di Coppa Italia, a proposito di Coppa Italia, il Torino non tira, la Fiorentina si, boom boom chiesa, squadra di Pioli che si impone per 2-0, stesso risultato per il Napoli, che con le reti di Milik e Fabian Ruiz supera il Sassuolo, annullato un gol al Nero Verde, Locatelli in alto, si parla di mercato, di Super Bivio per Iguain del Milan, Gattuso dice smarrito dopo l'errore con la Juventus, Gonzalo resta, questa è la domanda fatta al tecnico milanista, che ha risposto non so, e intanto i rossoneri accelerano per Piatec, e a proposito di Milan si avvicina l'impegno del prossimo mercoledì alle 18.30 in Arabia Saudita, si assegna il primo trofeo del 2019, ovvero la Supercoppa nella sfida con la Juventus, un titolo che riguarda la scomparsa prematura a calcio in lutto, per la scomparsa prematura del sudafricano Pil Mazinga, bomber di stile che ha giocato in Italia con Bari e Salernitana, molti tifosi del Pescara lo ricorderanno, tra l'altro proprio in gare, che lo avevano visto protagonista da avversario con la formazione bianca-azzurra, Mazinga che se n'è andato a 49 anni. Andiamo a vedere anche il Corriere dello Sport, Iguain ultima rivincita, Supercoppa mercoledì la sfida con Ronaldo, il Pipita vuole trascinare il Milan contro chi lo ha scaricato, e poi scappare subito al Chelsea, ormai sembra probabile la cessione di Iguain al Chelsea. Bello di notte, parliamo del Napoli, Milik gole assist, un altro polacco sulle orme di Boniek nel nostro paese, poi splendido Chiesa 1-2 micidiale, Mazzarri eliminato, Fiorentina che passa il turno, e Lautaro fa volare l'Inter, doppietta di Martinez nel 6-2, Nerazzurro al Benevento, ingola anche Icardi in settimana, vertice per il rinnovo. Vediamo anche tutto sport, Suning Inter da sogno, parla Capello e fa le carte al campionato, poi Preso Ramsey, si parla della Juventus e del mercato, e poi il Toro, l'altra squadra torinese che trova ampio spazio sul quotidiano sportivo torinese, ovvero il Torino flop in coppa con i Viola, Cairo presidente dei Granata, furibondo. Lasciamo i quotidiani sportivi nazionali, torniamo al centro per iniziare a vedere le pagine di sport, la prima pagina di sport riguarda il Pescara KO, Pilonne una furia, Biancazzurri battuti dal fano, il tecnico, mi girano le scatole, percetti, atteggiamenti, ma nelle gare amichevoli spesso accadono di queste cose, spesso le squadre di categoria inferiore, si aggiudicano le gare. La scommessa del direttore sportivo, parliamo del Teramo, il DS Sandro Federico, Giorgi, valore aggiunto del Teramo, l'ex Ascolano, pronto ad esordire in campionato già sabato, nell'attesissima partita che il Teramo giocherà alle 18.30, al Riviera delle Palme, con la San Benedettese. Vediamo poi un richiamo di Serie D, stese male Giulianova pari di Speranza, e mercoledì prossimo si tornerà in campo per il turno infrasettimanale di Serie D, che dunque ha visto le gare in questo ultimo weekend dividersi tra il sabato e la domenica, gli ottavi di Coppa Italia, Napoli Sassuolo 2-0, Napoli si guadagna i quarti con il Milan, gara decisa da Milik e Fabian Ruiz, e poi nel silenzio del Meazza, gara a porte chiuse per decisione del giudice sportivo, con l'Inter che ha battuto il Benevento 6-2, e poi 2-0 in esterna della Fiorentina a Torino, contro la formazione Granata e Fiorentina, che passa il turno. Mercato, Higuain-Celsi si decide dopo la Supercoppa, ne parlavamo anche prima con l'impegno di mercoledì tra Milan e Juventus per la Supercoppa, e poi si penserà al mercato con Higuain, che potrebbe emigrare nella squadra allenata da Maurizio Sarri, che lo ha avuto nel Napoli, in quella che è stata forse la stagione più ricca di soddisfazioni, per il giocatore attualmente in forza al Milan. E siamo al campionato di Serie B, al Pescara, il Pescara che punta sul mercato su Tuminello, Pilon dà l'ok, il tecnico un attaccante che mi piace, ma si infuria per la prestazione Scialba, ieri Pescara ha battuto per 2-1 lo stadio Adriatico Dalfano, spalti deserti, appena 400 spettatori per questa gara amichevole, che comunque è servita per iniziare a concentrarsi sul campionato, con il Pescara che tornerà in campo domenica prossima alle 21, allo stadio Adriatico con la Cremonese, per la prima gara di ritorno del campionato di Serie B, vedete domenica la gara con la Cremonese, c'è qualche dubbio per le non perfette condizioni del grosso Memuschai, e poi il punto interrogativo di Campagnaro che potrebbe farcela, ma potrebbe anche saltare la sfida con i grigio-rossi. E allora andiamo a vedere, spazio alle immagini, andiamo a vedere proprio il servizio che abbiamo realizzato ieri sulla sconfitta interna del Pescara allo stadio Adriatico con il Fano, vediamo. Nella prima gara del 2019 il Pescara esce sconfitto a sorpresa dal Fano nell'amichevole giocata all'Adriatico di fronte a 400 spettatori, Pillon ha schierato nel primo tempo con il canonico 4-3, la squadra con Fiorillo in porta, Balzano, Gravione, Perrotta e Crecco in difesa, a centrocampo Macin, Brugman e Canutè, mentre in attacco spazio a Del Sole, Mancuso e Antonucci. I marchigiani rispondono con il 3-5-2 con Sarra in porta, difesa a tre con Conatè, Sosa e Celli, a centrocampo sugli esterni Vitturini e Setola, con Tascone, Selasi e Lazzaro al centro, e da Silva e Ferrante in attacco. Prima emozione Bianca Azzurra al secondo con una punizione di Del Sole alta, risposta ospite al decimo con una buona opportunità per Ferrante. Al ventitresimo fallo in area marchigiana di Celli su Antonucci, con Di Martino che vede il rigore assegnato dal direttore di gare e trasformato da Mancuso con un tiro angolato. Il match è equilibrato con gli ospiti che non stanno a guardare e che trovano al trentottesimo il pari con un euro-goal di Tascone. Al quarantatresimo e poi Vincenzo Fiorillo a salvare su colpo di testa ravvicinato di da Siba su cross di Vitturini. Nella ripresa poche emozioni con le tante sostituzioni operate da Pellone ed Epifani. A fare soprattutto cronaca da segnalare nel Pescara il ritorno in campo di Cristian Capone dopo il grave infortunio. Al ventottesimo arriva il gol vittoria ospite con Acquadro che mette alle spalle di Castrati dopo una deviazione di Canutè. Al quarantatresimo il Pescara l'occasione per il 2-2 ma la punizione dell'ex Ascolano si stampa sulla parte alta della traversa. Per i biancazzurri è sconfitta con i marchigiani ma da domani si inizierà a pensare alla gara di campionato con la Cremonese. Pellone arrabbiato e si aspetta con i grigiorossi ben altra prova. E dunque da oggi si inizierà a pensare alla gara di domenica prossima con la Cremonese. Parliamo ancora di mercato, mercato in chiave biancazzurra, resiste anche Scamacca ma in Pol Cellascoli, altro giocatore che era finito già lo scorso anno nel mirino della società biancazzurra. Parliamo del Teramo, anche il Teramo nel prossimo weekend tornerà in campo torna il campionato di Serie C con la super sfida del Riviera delle Palme con la San Benedettese. Giorgi, il nostro valore aggiunto, ha detto il direttore sportivo Sandro Federico e per Giorgi che esordio, lui Ascolano Doc, giocare a San Benedetto del Tronto con la maglia del Teramo. Vediamo un altro titolo che riguarda il mercato e il mercato delle altre in Serie C nel Girone ovviamente B dove milita il Teramo in Monza prende anche Armellino, Guerra e Martin vicini al Vicenza. Vediamo anche proprio da questa pagina del centro, diamo una rinfrescata per quanto riguarda la posizione di classifica del Teramo che vedete in graduatoria 23 punti, ci sono sette squadre alle spalle dei Biancorossi e Teramo che affronterà la San Benedettese in una sfida molto sentita con una grande presenza presumibile, quasi certa direi, di tifosi aprutini al Riviera delle Palme. Andiamo a vedere così con la pagina 30, apriamo il discorso sulla Serie D e quello che è accaduto alla vastese, clamorosa stecca, così titola il centro con strigliata dei tifosi in campo la brutta copia della squadra che una settimana fa ha steso il Matelica a fine gara, squadra rapporto dai sostenitori arrivati in Romagna. Facciamo un passo indietro, andiamo a vedere anche le prime pagine dello sport del Messaggero prima di vedere altri servizi sulle gare proprio di Serie D, ripartiamo dal Pescara Pilon un KO che dà fastidio, mister del Pescara infastidito e non potrebbe essere diversamente dal mercato che crea un po' problemi a tutte le squadre e sarà così fino al 31 gennaio. Capone ok, Mancuso non basta, il Fano vince 2-1, abbiamo appena visto il servizio. Parliamo anche di pallannuoto di Serie 2 maschile con il successo esterno del Pescara di Paolo Malara che è passato per 8 a 7 nella piscina del Salerno. Siamo alla pagina del Teramo, in questo caso si parla anche del caso di Matteo, Teramo chiamato dalla Procura, giovedì la convocazione dell'organo federale a Roma dopo le parole sulla Camorra. Il padron Campitelli totalmente estranei alle mafie e lui non è ancora il nuovo amministratore delegato, lo ha spiegato la società Biancorossa attraverso un comunicato diramato nella serata di ieri. Per quanto riguarda il calcio giocato, Giorgi subito in campo anche senza minutaggio giocherà quasi certamente titolare nella gara di sabato a San Benedetto del Tronto. e possiamo tornare al centro, tornare a parlare di Serie D andando a vedere il servizio sulla sconfitta della Vastese che dopo il successo del turno precedente con il Matelica non è riuscita a ripetersi uscendo sconfitta dal campo della formazione romagnola. San Maurese batte Vastese 2-1 il servizio. La rincorsa della Vastese si interrompe bruscamente allo stadio Macrelli di San Mauro Pascoli dove la formazione aragonese cade per 2-1 confermando che per fare il salto di qualità certamente manca ancora qualcosa. Prova in colore dei biancrossi di Montani, costretto ad inizio ripresa un triplo cambio che sa di insoddisfazione ma che manca il terzo successo consecutivo dopo aver regolato a cavallo delle festività natalizie Agnonese prima e Matelica poi. Solito 4-3-3 per Montani con Coné e Leonetti a dar sostegno a Sciba, dietro Sbardella e Del Duca con i confermati De Meio a destra e Mataloni a sinistra. Capo e Lupo a dettare i tempi di gioco. Ma l'approccio dei Romagnoli è decisamente migliore. Al quarto è Zuppardo a farsi vedere con un diagonale rasoterra da sinistra, pallone che però termina sul fondo. Ancora la squadra di Mastro Nicola a farsi vedere al minuto numero 6. Bonandi cerca e trova la torre ancora di Zuppardo. Il colpo di testa libero all'Owati, destro che non c'entra lo specchio della porta. Bonandi allora decide di mettersi in proprio quando ci prova dai 30 metri col mancino ma anche in questo caso non c'entra il bersaglio grosso. Come però farlo Uwati al dodicesimo? Scarponi ancora per Bonandi. Il suo sinistro è ribattuto dalla difesa ospite ma è proprio L'Owati con un colpo da biliardo a centrare il palo più lontano e trafiggere Patania. C'è praticamente solo la Sammorese in campo. Tutto passa prevalentemente dai piedi di Bonandi che al quarto d'ora libera Sapucci. Patania si fa a Valere respingendo coi pugni però. Poco dopo la mezz'ora è Santoni a provare la via del raddoppio ma è ancora Patania a dire di no. Montani allora rivoluziona la Vastese. Dentro Fiore, Iarocci e Di Giacomo, Perlusso, Conè e Mataloni. Qualcosa si intravede ma non sarà sufficiente. Sciba cerca di suonare la sveglia al cinquantesimo dalla distanza. Conclusione parata. Così come quella tre minuti più tardi proprio di Fiore. Valdassari non è mai chiamato in causa perché persino il capo cannoniere del giro nei Leonetti sembra avere le polveri bagnate, servito poco e male. E la Sammorese è letale un minuto più tardi. Rosini pesca Zuppardo con un lancio preciso. La punta controlla e col destro firma il 2-0 di casa. Colpo durissimo per la Vastese che non riesce a reagire, anzi rischia di prendere anche il trissa al 62esimo. Il tocco vincente sugli sviluppi di un corner di Lombardi è fermato dalla terna arbitrale per una posizione di fuorigioco. Scampato all'ennesimo pericolo, Leonetti si fa vivo al 66esimo con un destro da fuori bloccato da Baldassari. A 12 minuti dal termine però la Vastese accorce le distanze. Angolo di Fiore testata vincente di Sciba, tiro troppo potente che piega i guanti di Baldassari. Ma è l'ultimo sussulto di un match che stoppa le ambizioni di rilancio dei Biancorossi. Nulla da fare, la classifica rimane discreta, ma vincendo avrebbe potuto cominciare ad essere interessante. Percordi però si torna in campo. All'Aragona arriva la San Giustese quarta della classe. La Vastese ha l'obbligo di dimenticare il Macrelli e una Romagna che sembra non portargli grande fortuna. Prima di andare a vedere il servizio sul pareggio esterno del Giulianova a Castelfidardo vediamo anche cosa hanno scritto oggi i quotidiani sulle altre abruzzesi di Serie D che erano scese in campo sabato. Notaresco, nei play-off siamo stati cinici. Si parla della formazione del presidente Di Giovanni che reduce da due vittorie consecutive. Mister Cudini stavolta non abbiamo badato al bel gioco ha detto il tecnico dei Rosso-Blu. Avezzano adesso la situazione critica. Avezzano battuto sabato in casa a domicilio al Dei Marsi per 1-0 dal Monte Giorgio. Classifica che è tornata ad essere davvero preoccupante. E proprio il Monte Giorgio sarà il prossimo avversario del Francavilla. Francavilla che archivia il K.O. Casalingo con il Campobasso e pensa proprio alla sfida con la formazione marchigiana. Come detto si giocherà e si tornerà in campo mercoledì prossimo nel turno infrasettimanale, ovvero dopo domani. Vastese assente faccia a faccia con i tifosi infuriati. Accaduto ieri abbiamo appena visto il servizio di Ania Cantagalli a San Mauro Pascoli. Sconfitta senza lottare, tifosi arrabbiati. È andata meglio al Giulianova. Un Giulianova a due facce, double face. Bartolini striglia tutti. Sul campo del Castelfidardo, fanalino di coda del torneo. Finisce 1-1. Il Real avrebbe potuto dilagare nel primo tempo. Poi nella ripresa la squadra si ferma. E a nulla servono i cambi decisi da Stallone. Allora andiamo a vedere quello che è successo a Castelfidardo in questo pareggio tra la formazione marchigiana ed il Giulianova. Termina in parità la sfida tra Castelfidardo, Real e Giulianova. Punto che serve a poco a Castelfidardo se non quello di interrompere la serie di sconfitte consecutive mentre Giulianova ha il rammarico di non aver portato a casa i tre punti viste le tante occasioni mancate. E infatti sono gli ospiti a partire meglio rispetto ai padroni di casa. Già il terzo di Paolo Imbeccatorelli che tira in diagonale ma la palla sfila sul fondo vicino al palo. Al sesto è Antonelli che conclude di drop dal vertice destro dell'area ma anche qui il pallone finisce sul fondo. Al quindicesimo si sblocca la partita. Di Paolo conquista palla sulla sinistra e tira in diagonale. Il portiere respinge poi Eno anticipa in angolo. Dal corner batte Napolano, palla in mezzo, colpo di testa vincente di De Fabritis che anticipa tutti e mette dentro. Al diciottesimo si vede il Castelfidardo. Bel cross di Massi dalla destra con né Severini né Calabrese che riescono a colpire il pallone di testa e quindi non arrivano all'appuntamento con la rete. Al ventitresimo si rivede il Real Giulianova. Cross di Napolano, colpo di testa di Antonelli con Mercorelli che riesce a deviare compiendo un mezzo miracolo. Al ventisettesimo grandissimo occasione per il Castelfidardo che nasce da un'incomprensione difensiva tra il portiere Pagliarini e la difesa. La palla va a D'Ercole che tira a botta sicura ma il portiere è bravissimo a deviare in corner. Al ventinovesimo Calabrese tira da posizione centrale, il pallone sfila vicino al palo. Al quarantesimo palla filtrante di Giovagnoli. Per Calabrese che fugge sul filo del fuor gioco, tira sul primo palo ma colpisce solo l'esterno della rete. Il primo tempo si chiude con un lancio millimetrico di Napolano per Di Paolo che corre verso Mercorelli e tira ma il portiere si allunga e para. Nell'inizio della ripresa si vede ancora il rallo Giulianova con Napolano che dalla sinistra crossa verso il centro. Mercorelli esce a vuoto, palla ad Antonelli che spara ma è bravo il portiere a ricoprire il pallone e mandare in corner. Al diciottesimo punizione al vertice sinistro di Di Rollo che però manda altissimo. Al ventiquattresimo il Castelfidardo pareggia. Corner di Trellini. Palla a Calabrese che cerca di inconearsi, palla respinta e ritorna sui piedi del numero 7 di casa che tira in diagonale. La sfera viene deviata e per Pagliarini non c'è niente da fare. Arriva all'1-1, il Castelfidardo si rinvigorisce. Al trentacinquesimo punizione al limite di Calabrese in bocca a Pagliarini. Al quarantesimo D'Adamo viene atterrato al limite dell'area. Batte i cori per il Giulianova, il pallone finisce altissimo. L'ultima occasione all'ultimo minuto. Petraruolo viene steso da De Fabritis al limite dell'area. Batte Calabrese ma il pallone colpisce la barriera e finisce 1-1. Questo è il servizio sul pareggio in terra marchigiana dei giallorossi. Vedete anche il titolo del centro. Giulianova solo un pari pieno di recriminazioni. Stallone al novantunesimo. Siamo sbagliato non chiudere il match sullo 0-1. Vediamo anche dalle colonne del centro il punto della situazione in casa delle altre abruzzesi. Francavilla problemi in difesa. Nazari out, Bosco in dubbio. Pineto dieci giorni sotto esame. Giammarino siamo in crescita. Mercoledì al Mariani Pavone arriverà il Forlì. Notaresco, rullo compressore. Rucci concentrati per l'Agnonese. Sei punti in due partite per la squadra del presidente Di Giovanni. Siamo entrati nell'ultima parte di mattino 6. Parliamo ancora di calcio. Andiamo a vedere i risultati delle gare della ventunesima giornata del campionato regionale di eccellenza. Con il Chieti fermato sullo 0-0 casalingo dalla Renato Curri-Angolana. Brutta prestazione dei Neroverdi che non vanno oltre il pari. Nel finale ha annullato un gol a Miciche. Il tecnico Lucarelli, il tecnico dei Neroverdi, al novantunesimo, dice nessun dramma. Guardiamo avanti. Vediamo le altre gare. Acqua e Sapone, Cupello 0-2. Cupello chiude i conti in 45 minuti. Acqua e Sapone poco brillante. E poi Delfino Flacco-Porto. Nero Stellati 5-1. Manita in rimonta dei Pescaresi. Nero Stellati si illudono con Pelino. Pontevomano la spunta sui giovani del Martinsicuro. squadra ospite che vince per 1-0 grazie ad un gol realizzato all'inizio del primo tempo da Pallitti. Vediamo anche le altre gare. San Buceto cala il tris e si avvicina alla capolista Chieti. San Buceto che batte la miternina per 3-0. Al 93, Paterno Beffato dall'Alba Adriatica che passa per 3-2 in casa dei Marsicani. Una zampata di Capocasa permette alla formazione teramana di ottenere la vittoria. Vediamo anche le altre gare. Giocate ieri, sempre nel campionato regionale di eccellenza. Pardon Nereto Miglianico 2-2 e poi Spoltore Capistrello 1-2. Vittoria esterna del Capistrello a Spoltore. Poi Torrese che batte il penne per 4-1. Siamo al campionato regionale di promozione. Partiamo dal girone B per vedere i risultati. Con l'Ortona che perde per 3-0 sul campo del San Salvo che vince senza affanni. Ortona in bambola. E poi Fater, Pescara, Bagica Lupo, Vasto Marina 1-1. Mercoledì tornerà in campo la capolista Lanciano che è prima in classifica con un discreto bottino di punti di vantaggio sul Bagica Lupo Vasto. Vediamo anche gli altri risultati. Scafa, Riverchieti 1-0. Piazzano di Atessa, Casalbordino 0-2. E poi nel girone A questi risultati. Borgo Santa Maria Fontanelle 1-3. Mosciano Castelnuovo 2-3. Rosetana Angizia Luco 1-2. San Gregorio Piano della Lente 3-1. Santomero Nuova Sant'Egidiese 1-4. Morrodoro Pucetta 1-2. Torno in parte Montorio 0-4. Tante le vittorie esterne in questa giornata. Vediamo anche brevemente le classifiche per quanto riguarda l'eccellenza e la promozione per le prime posizioni. In eccellenza il Chieti ha 42 punti e in testa San Buceto che insegue a 38. Nel campionato di promozione primo in classifica il Castelnuovo con 47 punti. Angizia 43. Nel girone B in testa c'è il Lanciano con 48 punti. Lanciano tra l'altro che ha una gara in meno rispetto alla Bagica Lupo Vasto che insegue. Lasciamo definitivamente il calcio dopo aver visto i risultati dei campionati di eccellenza e promozione. Parliamo di pallacanestro in maniera dettagliata. Lo facciamo partendo dal campionato di Serie A2 maschile con Roseto che torna al successo. Questa volta l'overtime d'oro per gli Sharks che subiscono la rimonta del Mantova ma nel supplementare tengono duro e conquistano un successo importante. Roseto che ha battuto il Mantova 73 a 68. Vediamo le parole di coach d'Arcangeli al termine della gara che si gode i due punti ma che paura per l'allenatore degli Sharks. È meglio vincere che prendersi i complimenti degli avversari. Parliamo anche del basket in carrozzina con il colpaccio dell'amicacci Giulianova sul parquet del Varese. Siamo al campionato nazionale di Serie B maschile di pallacanestro. Partiamo dalla parte alta della pagina con il Campli che in gara fino alla fine perde con Civitanova dell'ex coach Millina. Civitanova che passa per 77 a 72 sul parquet dei Farnesi. E poi il Chieti che prosegue la striscia di successi, liquida la pratica Corato e punta verso l'alta classifica. Chieti che ha battuto i pugliesi per 72 a 56. Torna invece al successo l'Amatori che espugna il campo del Nardò per 68 a 57. Gara altalenante all'inizio ma negli ultimi 15 minuti i pescaresi scavano un solco incolmabile riuscendo a portare a casa il successo subito dimenticato. Lo scivolone di Bisceglie nella terza frazione si rivelano decisive le triple di Potì, Leonzio e Capitanelli che dunque con la loro mano calda hanno portato al successo la formazione bianco-rossa di coach Raiola in terra pugliese. E' andata invece male al Teramo, Teramo che beffa Adriaticca Press battuta dopo i supplementari da Ancona. Gara che si è giocata sul campo neutro di Chieti e Ancona che ha vinto per 91 ad 85. Vediamo anche i risultati della serie C Gold, vedete qui di spalla l'articolo proprio con i tabellini delle gare giocate ieri. Pisaurum, Lanciano 73 a 75, Monte Granaro, Magic Chieti 68 ad 87 questi risultati. Ma tornando invece alla serie B avevamo saltato, vi chiediamo scusa ovviamente, l'articolo che riguardava il Giulianova Basket che dura solo un tempo ed in casa perde con Fabriano. Dunque giornata negativa per la formazione giuliese. Vediamo anche il campionato di, siamo sempre alla palla canestro, il campionato di serie C Silver con i risultati delle gare di ieri. Gevi Vasto, nuovo basket Aquilano 78 a 63, Mosciano Pineto 97 a 60, Porto San Giorgio, Torrespes 74 a 77, Teramo Termoli 72 a 55, Chieti Basket, Nuova Campli 57 a 65. Parliamo anche di atletica con le gare indora ad Ancona. Montanaro sugli scudi e nuovo record personale, esulta la 17enne lanciatrice della Gran Sasso Teramo, mantenuto vince nel lungo, Zuccarini della Terno Pescara seconda sui quattro centri, nel triplo terzi Angelozzi e Giuliante. Dunque belle soddisfazioni per gli atleti abruzzesi nelle gare indoor di Ancona. Siamo al volley con una sieco mostruosa che vola al terzo posto, decima vittoria stagionale, 3-7 dominati contro i Salentini del Taviano, show dell'opposto tedesco Marx in pavido Ortona che ha battuto Taviano per 3-0. Questi parziali 25-22, 25-20 e 25-17. In classifica, lo abbiamo letto anche dal titolo, la formazione ortonese sale al terzo posto soddisfatto, non potrebbe essere diversamente il coach Lanci, ragazzi bravi, ma ora testa al Tuscania che è il prossimo avversario degli ortonesi. Parliamo anche di serie B, in B1 il blu Italipineto senza ostacoli, Porcinari e Bulfon trascinatori, l'altino aggancia il Cesena al terzo posto in classifica. E noi con il volley siamo davvero giunti al termine dell'appuntamento di oggi, di lunedì 14 gennaio con Mattino 6. Mattino 6 che vi dà appuntamento a domani. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi come sempre per la cortese attenzione. Vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale. Tg6 che poi vedrà anche le edizioni delle 19 e delle 23, ma questa sera alle 21 torna come ogni lunedì l'appuntamento con Replay in diretta dai nostri studi. Replay condotto da Enrico Rocchi con i suoi ospiti per parlare del Pescara nella settimana che ci porterà alla gara di campionato di domenica prossima con la Cremonese. Davvero tutto, grazie e buona giornata. Grazie a tutti.